Messina, c'è stato oggi in prefettura un comitato per l'ordine per la sicurezza sul tema dell'emergenza Movida in città. Prevenzione e repressione, queste le due strade che la prefettura ha indicato per affrontare quella che a Messina rischia di diventare un'emergenza. Le risse tra minorenni nei luoghi della Movida e l'ultimo episodio di sabato scorso con un ragazzo di 14 anni, vittima di un vero e proprio atto di bullismo, hanno alzato il livello di guardia e di allarme sociale, così il prefetto Maria Carmela Librizi ha riunito oggi il comitato per l'ordine pubblica e la sicurezza con all'ordine del giorno proprio la sicurezza nei luoghi di ritrovo dei giovani. Il procuratore dei minori ha evidenziato che non c'è un fenomeno di baby gang, almeno non c'è in questi ultimi episodi. Abbiamo sicuramente aspetti di contrasti forti tra ragazzi che sono determinati evidentemente anche da uso di sostanze alcoliche e che comportano la necessità di fronteggiare questi aspetti. Un fenomeno non sottovalutato, tanto che attorno al tavolo, oltre le forze dell'ordine, c'erano anche i rappresentanti della procura dei minori e delle associazioni di commercianti ed esercenti. E per il prefetto deve partire proprio da loro l'attività di prevenzione. Da qui ognuno è uscito con un compito ben specifico. Le associazioni devono chiaramente richiamare con rigore l'attenzione degli esercenti perché chiaramente non si può consentire di somministrare sostanze alcoliche non solo ai minori e già questo è un reato, ma lo è anche se lo si somministra in maniera eccessiva anche agli adulti e questo lo ha specificatamente indicato anche il procuratore. Le azioni di repressione invece non prevederanno alcun intervento dell'esercito in strada, così come qualcuno aveva chiesto, ma una presenza più visibile e costante delle forze dell'ordine. Sì, qui il discorso che ho detto è la necessità di incrementare la percezione di sicurezza. La percezione di sicurezza la si incrementerà con un potenziamento dei servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine insieme con la polizia locale.